Grazie a tutti ciao a tutti oggi siamo qua in questa ridente giornata di pioggia a fare un allenamento con degli ospiti dove faremo una simulazione di gara con degli stage che ci programmeremo e studieremo di volta in volta vi presentiamo l'umbo man con una vampire comp aggiornata in 9 mm aggiornata con impugnatura in acciaio inkman detto anche marco soppo vampire comp seconda serie carrello aggiornato impugnatura in acciaio tutto in 40 e poi abbiamo il montagnini che spada contatti per 73 è l'unico infiltrato esatto mettiamola così da questa finestra facciamo ferrocarta allora l'ordine è gasmith inkman humbo e marco comunque che ha salito ma non vestito io un pochino ma non mi la metto quattro altra stai 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 Grazie a tutti. Bello, va bene. Mi puoi censurare? Lo cancello, lo cancello, non è vero. La lente è fortissima. Quello non è una questione di igiene. Beno male. 8, 9, 10, 11. Ah no, facciamo due ferri e due ferri. Andiamo. Allora, come hai. Vediamo. Adesso si saprà tra, penso, molto tempo che vince. Marco, in onore della prestazione ottima, viene premiato col secchio dell'immondizia. Grazie a tutti.